Il nostro ministro degli esteri terzi, terzi addetto e allarme per nuovi sbarchi, nuovi arrivi dal Maghreb sulle nostre coste. Allora andiamo a Lampedusa, vediamo cosa succede. Matteo Parlato. Preoccupazione ma anche fiducia nel governo e nel ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri. Queste le parole del nuovo sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, dopo l'allarme lanciato da Tripoli per una possibile nuova ondata di migranti. Il mio sindaco ha già chiesto un incontro al Viminale per chiedere che sull'isola ci siano una o due navi, sia per dare accoglienza ai migranti che per poterli trasferire sulla terraferma ed evitare i riproporsi della crisi umanitaria che segnò l'isola l'anno scorso. A Lampedusa c'è preoccupazione per le parole del ministro degli esteri libico, che ha segnalato nuovi movimenti di migranti che stanno raggiungendo il paese nordafricano e da lì poi attraversare il mare verso l'Europa. Sul fronte operativo c'è stato un rafforzamento dei mezzi di Capitaneria e Guardia di Finanza, mentre il Ministero della Salute ha pronto una task force di dottori e mediatori culturali da inviare a Lampedusa nel caso di un nuovo esodo. Il 15 maggio i vigili del fuoco consegneranno i locali del centro di accoglienza, che fu distrutto da un incendio l'anno scorso e che ora potrà ospitare circa 400 persone. Sull'isola in questo momento ci sono 47 immigrati, di cui 21 sbarcati oltre un mese fa. Le condizioni nel mare non sono proibitive e ora ai Lampedusani non rimane che aspettare per capire se l'allerta lanciata dal ministro libico si trasformerà in fatti o no.